Le primarie del Partito Democratico, che hanno incoronato Matteo Renzi, segretario, hanno visto nel Vallo di Diano e nel Cilento ricompattarsi il fronte della minoranza DEM, in particolare grazie all'impegno del deputato cilentano Simone Valiante, coordinatore della mozione Emiliano e della vice-sindaca di Monte San Giacomo Angela D'Alto, capolista nel collegio ed eletta all'Assemblea Nazionale. Il presidente della regione Puglia ha incassato 7.837 voti, in provincia di Salerno pare al 16,54%. Nei comuni del Vallo di Diano la percentuale di Emiliano si attesta addirittura al 27%, grande quindi la soddisfazione della vice-sindaca di Monte San Giacomo Angela D'Alto per il risultato conseguito. Devo dire grazie alle tante persone del Vallo di Diano che mi hanno sostenuto, ma anche al territorio del Cilento. Non a caso questo collegio che è Cilento e Vallo di Diano, nella nostra mozione c'ero io capolista, quindi una donna del Vallo di Diano che è stata sostenuta in questo caso anche dal Cilento. Quindi anche questa sinergia territoriale che ho avuto modo di rafforzare in questi pochissimi giorni di campagna elettorale ci ha consentito di ottenere questo bellissimo risultato in tutto il collegio e poi un risultato ancora un po' maggiore sul piano percentuale nel Vallo di Diano. Cosa ti ha convinto ad accettare questa candidatura con Emiliano? L'idea di riavvicinare tutta quella comunità politica diffusa di militanti, di cittadini che si erano un po' allontanati dal Partito Democratico. Io l'ho detto dall'inizio e non non faccio fatica a ribadirlo ancora oggi, la mia non è stata affatto una candidatura contro Renzi perché per cultura politica diciamo io non sono solita fare battaglie contro, è stata una battaglia importante, ripeto, per il territorio e per un'idea di politica più radicata sui territori, più vicina ai territori perché poi fondamentalmente l'ho detto più volte quello che rimprovero un po' al Renzi segretario del Partito Democratico è il fatto di non essersi occupato più di tanto del nostro partito nel sud in particolare nella Campania. Io per esempio penso a Napoli e alla situazione disastrosa in cui è il PD napoletano che è ridotto a una percentuale misera, siamo intorno al 10% dopo che Napoli insomma ha rappresentato per anni, è una roccaforte del centro-sinistra e in particolare della sinistra. Ecco, penso che Renzi dovrebbe ritornare nel Mezzogiorno d'Italia e occuparsi del Mezzogiorno in particolare della Campania, di Napoli e ovviamente anche del nostro territorio. A Monte San Giacomo un vero plebiscito, 93% dei voti te l'aspettavi? Sì, onestamente sì, nel senso che chi vive in una piccola realtà, io sono amministratrice da 15 anni a Monte San Giacomo, quindi anche alle ultime elezioni comunali sono stata la più votata e quindi sì, il mio è un comune straordinario, molto unito e quindi in questo devo dire grazie innanzitutto alla mia amministrazione, ai miei colleghi amministratori, al partito di Monte San Giacomo, ma soprattutto ai cittadini che rispondono sempre in modo straordinario manifestando un grande affetto. Ecco, ultima domanda, un po' provocatore, il titolo del mattino di oggi parla di resistenza antideluchiana nel Vallo di Diano e nel Cilento. No, io ripeto, quello che ho detto prima vale sempre, io non sono abituata a fare politica contro. Io penso che questa, la nostra debba essere una resistenza alla indifferenza, innanzitutto del partito nazionale nei confronti del Mezzogiorno d'Italia e della Campania e dei nostri territori. Ecco, io credo che non si possano appaltare, diciamo, a dei personaggi politici pur validissimi eppure importanti delle intere zone, delegare tutto. Io credo che Renzi, la prima cosa che deve fare è quella di tornare tra i militanti anche nel sud, come ha fatto nel resto d'Italia, di conoscere le realtà locali, di conoscere i territori e di incominciare a selezionare la classe dirigente in base al merito e alle capacità e non semplicemente ai pacchetti di tessere. Ultima cosa, consentimelo di dire, ho letto un po' PD del Vallo Spaccato, questo non è assolutamente vero, nel senso che qua non si votava per un'elezione regionale o per il deputato, si votava per delle emozioni congressuali, è tipico della democrazia interna ai partiti, quindi ognuno ha scelto di schierarsi in un certo modo. Io sapevo di andare incontro comunque una battaglia più difficile in salita perché certamente Renzi ha una forza individuale già notevole, poi conoscevo anche l'orientamento di tutti i miei colleghi amministratori, però non c'è stata assolutamente nessuna frizione, anzi io ringrazio tutti per il sostegno, ma soprattutto i cittadini che hanno votato, quindi da questo punto di vista non c'è nessuna spaccatura né ci sarà, anzi io voglio rilanciare quest'idea di unità tra il Vallo di Diana e il Cilento perché io sono convinta del fatto che noi non dobbiamo fare la guerra tra i poveri, tra due territori entrambi con grandi sofferenze di varia natura, ma dobbiamo anzi essere sinergici per contrapporci, non per contrapporci, ma per competere in senso positivo con le realtà metropolitane a cominciare dalla città di Salerno.